Io scrivo sul Fatto Quotidiano perché, come diceva Montanelli, il nostro unico padrone è il lettore. Scrivo sul Fatto perché credo nella creatività, nell'autonomia, nell'indipendenza di giudizio. Io lavoro al Fatto Quotidiano perché è un giornale nuovo, democratico e indipendente. Io scrivo sul Fatto per spiegare come nascono le leggi, a cosa e qualche volta a chi servono. Scrivo sul Fatto perché un giornale indipendente, libero è anche divertente. Grazie a tutti.